ciao sono leonardo raso della lr immobiliare oggi vi presento un delizioso appartamento ubicato in anzio zona colonia esattamente in via leda si tratta di un appartamento opposto al piano terra di una palazzina edificata sulla fine degli anni 50 e dotata di certificato di abitabilità l'immobile impreziosito da un bellissimo giardino in parte pavimentato di circa 180 metri quadri con un'ottima esposizione esattamente est sud ovest l'immobile è posto al piano terra ed è dotato da un ingresso indipendente attraverso una gradevole gradinata il preziosito da un pergolato di uva si raggiunge l'ampio giardino in gran parte pavimentato nel quale è presente un'area adibita a zona sala hobby sotto una tettoia di legno di castagno con forno a legna e barbecue iniziamo iniziamo All'interno l'immobile è composto da un soggiorno con angolo cottura dal quale attraverso un disimpegno raggiungiamo la camera matrimoniale. Un secondo ambiente che può essere utilizzato come zona letto. Un corridoio con ampia risega in cui poter ubicare un grande armadio e un bagno dotato di doccia. Attraverso un camminamento esterno si raggiunge la cantina che è l'unica pertinenza dell'immobile. Abbiamo visitato un'interessante opportunità di investimento immobiliare con alcune peculiarità importanti. L'immobile ha una classe energetica E, ha una rendita catastale di euro 581,01 centesimi e di categoria catastale A7. È dotato di riscaldamento autonomo con caldaia acquistata nel 2016. Tra il 2016 e il 2017 ha subito degli ammodernamenti molto importanti. In particolare, l'intera pavimentazione dell'appartamento è stata coibentata con guaina liquida in modo da poter mettere a riparo l'immobile da rischi di umidità e quindi poi l'intera pavimentazione è stata sostituita. È stato creato l'allaccio alla rete del gas metano, in precedenza non esistente. L'immobile è poi dotato di allaccio in fogna alla rete comunale e di acqua potabile. Potete vedere foto, video e planimetrie di questo interessante appartamento sul nostro sito www.lrimobiliareiroma.it e su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mare.